ok perfetto allora signori oggi saremo al modulo 3 io sono Marco Emanuele Cocco sono andato come perito industriale e poi mi sono specializzato appunto prendendo la loro in ingegneria e dal 2010 mi occupo soprattutto di termografia civile industriale qualcosa come 20.000 termogrammi analizzati nella mia vita io parto come figlio di imprenditori edili e quindi sin da bambino sono sempre stato in cantiere e la mia esperienza appunto nel vedere le costruzioni nascere e poi da un punto di vista tecnico con gli studi diciamo che hanno completato la mia conoscenza delle strutture e soprattutto di quello che sono le tecniche costruttive e le diciamo la la vettustà e quindi gli imprevisti che le costruzioni affrontano durante tutto il loro ciclo di vita ci sono palazzi di mio nonno costruiti nel 1950 che ancora oggi continuano a esistere e in questo periodo storico stanno facendo le prime manutenzioni ci sono altri palazzi costruiti da mio padre e dei miei zii con apeli più moderni che invece stanno avendo dei degradi importanti e palazzi che vedo costruiti oggi ai giorni nostri che già dopo poco tempo presentano poco tempo dieci anni di vita presentano anomalie importanti in fatto di corrosione di armature perdita di protezione calcestruzzo e così via si vede che i materiali non sono quelli di un tempo stanno variando e quindi questi aspetti necessitano di un'attenzione particolare attenzione particolare da parte dei tecnici attenzione particolare da parte di chi progetta e di chi conduce gli immobili questi siano pubblici siano privati perché la vita dell'edificio come le abbiamo conosciute fino adesso potrebbe non proseguire nel senso che già dopo dieci anni l'edificio potrebbe avere necessità di un'attenzione particolare e quindi di verificare che le resistenze e le progettazioni per il ciclo di vita utile siano effettivamente quelle che ci si aspettava oppure se ci sono stati dei problemi con materiali con le metodologie costruttive eccetera che portano a invece doverle attenzionare prima c'è da dire anche un'altra cosa ultimamente io mi sto occupando anche di verifiche per quanto riguarda le polizze postume attualmente negli edifici civili quando il costruttore costruisce un immobile per la vendita deve stipulare la polizia postuma e assieme alla polizia postuma è necessario per legge una due diligence tecnica che verifichi che la costruzione viene eseguita secondo la normativa e con i materiali previsti viene fatta la due diligence sulla progettazione e sull'esecuzione e devo dirvi che stiamo intervenendo stiamo intervenendo per modo di dire stiamo attenzionando gli impresari su una serie di problematiche che se non ci fossimo stati sarebbero passate in cavalleria quindi pilastri con armature fuori asse armature senza gli adeguati copriferri mi è capitato proprio la settimana scorsa delle ville in costruzione importanti fatte con il matone in fibrolegno dove le armature erano completamente attaccate alle pannellature di fibrolegno quindi senza nessun tipo di copriferro garantito dal calcestruzzo e completamente esposte agli agenti atmosferici soprattutto perché erano in riva al mare in questo modulo 3 quindi affrontiamo una parte degli argomenti che ci interessano e sono argomenti che riguardano appunto un po' di normativa quindi l'esegesi del DPR della 633 sulla scorta del DPR 380 e delle sue modificazioni organizzazione e gestione dell'attività di cantiere e poi le prime indicazioni sulla valutazione sull'uso dei rischi di P e delle attrezzature li verremo dei POS fatti più o meno bene e da lì partiranno anche un po' di analisi e un po' di commenti quindi affrontiamo la prima parte allora i primi laboratori di diritto privato sono stati autorizzati come molti di noi sanno con il decreto del ministro dei lavori pubblici del 75 erano considerati i laboratori ufficiali i laboratori universitari dei Politecnici l'istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato il Teorin Club italiano il laboratorio del centro studi ed esperienze di servizi antincendi di protezione civile e poi il centro sperimentare dell'ANAS eventualmente la legge dice sentito il consiglio superi dei lavori pubblici il ministero può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ed effettuare provi su materiali da costruzione nel 71 con la legge 1086 nome tecniche per l'esecuzione delle opere in CA c'è un articolo 20 che dice agli effetti del presente legge sono considerati i laboratori ufficiali appunto quello che viene ripreso prima con nuovamente può autorizzare ai sensi l'attività di laboratorio l'attività di laboratorio ai fini del presente legge è servizio di pubblica utilità e questo è un concetto importantissimo per differenziare l'attività del laboratorio dall'attività di indagine che può condurre o che conducono molti professionisti nel testo nel testo unico dell'edilizia del 2001 il DPR 380 con l'integrazione della legge 55 e dello sblocco a cantieri agli effetti del testo unico sono considerati i laboratori ufficiali e viene ripreso tutto e inoltre dice può autorizzare che cosa prove sui materiali da costruzione lettera prove sul laboratorio di terrello roce lettera c e col decreto 55 è stato inserito prove controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti quindi i nuovi laboratori 633 e perché è nata questa esigenza di creare un ulteriore laboratorio visto che già nel 2010 erano stati creati in un certo circolare dell'STC e quindi criteri per il rascio dell'autorizzazione ai laboratori per l'esecuzione di prove su materiali da costruzione settore A e settore B venivano rilasciate appunto autorizzazioni per compiere verifiche sui materiali quindi nel settore A calcestruzia cioè laterizi leganti idraulici sezione B legno massiccio legno lamellare pannelli a base di legno l'autorichiesta di autorizzazione può riguardare uno o più laboratori oltre alle prove in laboratorie B potrà richiedere l'autorizzazione a svolgere il certificato ad altre prove riconducibili a prescrizioni contenute nelle vigenti norme tecniche quindi elementi di collegamenti in acciaio aggregati materiali compositi fibro rinforzati un laboratorio o prove su materiali di costruzione può richiedere l'autorizzazione di eseguire prove in esterno prove di carico su piastre di pali i materiali da sottoporre a prove di laboratorio devono essere messi a disposizione dal richiedente presso il laboratorio questo è una cosa importantissima il laboratorio potrà anche effettuare su richieste del direttore o del comitente il prelievo in cantiere ovvero in sito però notate bene che già da qui c'è un particolare che identifica questi laboratori cioè devono effettuare le prove in laboratorio presso il laboratorio abbiamo anche circolare un attimo e qua abbiamo la prima circolare che poi andremo a rivedere per delle particolarità quindi una delle cose più importanti che vengono indicate nel circolare che i laboratori devono assicurare delle prove su materiale costruzione ad adeguato livello qualitativo e conferire al loro di carattere di certificazione ufficiale e poi devono garantire migliori condizioni di qualità affidabilità indipendenza delle attività di prove e certificazioni questo è ciò che identifica principalmente un laboratorio quindi i 76-16 i 76-17 possono fare tutte le prove sul cemento laterizio in legno malte acciai e come vediamo sono tutte prove in laboratori l'altra circolare sempre del 2010 si riferisce invece ai laboratori soprattutto quelli geologici quindi che fanno le verifiche su terre e rocce come sempre vediamo nell'ultima riga oltre alle prove obbligatorie dei settori A e B il laboratorio potrà chiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare altre specifiche prove riconducibili a prescrizioni contenuti nelle vigente norme tecniche e in esterno può chiedere l'autorizzazione per eseguire prove su densità in sito carico su piastra e carico su pali la circolare 76-18 ricalca in tutto la 76-17 salvo che si differenzia per le specifiche che deve avere il direttore del laboratorio adesso vediamo se non è andiamo al direttore di laboratorio soggetto gestore garanzia di qualità direttore di laboratorio laurea ingegneria architettura o geologia quinquennale questo per il 76-17 mentre 76-17 18 direttore architettura architettura o geologia le differenze diciamo sono sono praticamente identiche deve possedere però specifiche competenze nei seguenti settori caratteristiche fisico-meccaniche di terreno in roccia delle procedure sperimentali e delle normative nazionali mentre d'altra parte delle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da costruzione delle procedure sperimentali e delle normative quindi separe i due campi d'applicazione gli sperimentatori hanno le stesse funzioni aggregati rocce terre terre quindi tutte le valutazioni e emettono naturalmente i certificati queste diapositive le abbiamo viste in molti in molte altre presentazioni e ricalcano lo stato di degrado a cui si sta avviando a cui stanno avviando tutte le nostre infrastrutture degrado dovuto a che cosa? 18 novembre 2013 in Sardegna 2013 in Liguria altro pronto e crollato vittime in entrambi Sicilia niente vittime 2014 altro viadotto crollato 2016 Lombardia altre vittime Marche altre vittime tutta una serie di ponti e viadotti che stanno crollando notizia di pochi giorni fa del crollo di porzioni di gallerie per via di frane per via di cedimenti dalla struttura in cemento armato il ponte Morandi il ponte Morandi nel 2018 Liguria altri ponti completamente distrutti prove effettuate da non si sa chi e non si sa come non si sa con quali procedure con quali metodologie pilastri forati pilastri forati aver sentore della posizione delle armature riparazioni non effettuate martinetti piatti fatti non si sa cosa e non si sa come assenza di gestione delle infrastrutture assenza di manutenzione assenza di controlli ma soprattutto assenza di operatori formati e qualificati come abbiamo visto nelle slide e nella presentazione ieri dell'ingegner Mineo non basta essere ingegneri per potersi arrogare il diritto di saper fare prove e di saper fare indagini bisogna aver eseguito e bisogna aver seguito corsi bisogna avere dei mentore che informino e formino sulle metodologie e sulle procedure per effettuare le indagini ma soprattutto serve formazione nella progettazione dell'indagine che come vedremo più avanti è il primo passo ed è il passo fondamentale perché poi gli sperimentatori possono andare in cantiere ed eseguire le prove quindi vediamo già che c'è una differenza fra i laboratori 7617 e 7618 dove si dice che la prova deve essere eseguita in laboratorio dove arriva il campione già pronto e io schiaccio la carota tiro la barra la piego faccio faccio una prova su una malta diverso è l'ambiente di cantiere non è un ambiente protetto è un ambiente differente per ogni location è un ambiente differente necessita di procedura differente che potrà variare anche di poco però varia quindi con il decreto sblocca cantieri che ha corretto la legge il dpr 380 più l'ausilio dell'entici 2018 e il del regolamento europeo si arriva alla circolare del 3 dicembre 2019 633 che si intitola criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori prove e controlli sui materiali da costruzione strutture e costruzioni esistenti indicato nell'articolo 59 del 382 2001 così come modificato vediamo la forma della circolare disposizione generale campione di applicazione soggetto gestore garanzia di qualità il direttore di laboratorio requisiti del direttore compiti e mansioni e il personale requisiti e doneri locali prove attrezzature strumentazioni metodi di prove procedure e poi la documentazione relativa all'interno amministrativo certificati di prova manipolazione dei campioni sottoposti a prove documentazione dalle gare all'istanza istruttori controlli durate rinnovo dell'autorizzazione e poi cose che non vorremmo avere quindi difida del laboratorio revoca delle autorizzazioni poi ci sono una serie di allegati che sono le tipologie di prove attrezzature strumentazioni pertanto con la circolare S33 2019 al fine di garantire la sicurezza pubblica si pone fine alla deregulation fino a resistenza separando ciò che sono le prove sui materiali da ciò che sono le prove le modalità di prova di cui necessita un edificio o struttura complessa quindi una cosa è fare una prova in laboratorio su un campione ricevuto in laboratorio una cosa è effettuare una prova in situ la circolare S33 è una premessa la valutazione della sicurezza nelle costruzioni non può che realizzarsi mediante un adeguato processo basato sulla conoscenza della struttura che deve riguardare innanzitutto ma non solo le caratteristiche fisiche meccaniche dei materiali da costruzione quindi si torna a ribadire il concetto di piano delle indagini conoscenza della struttura rilievo della struttura e ci si rallaccia anche al concetto molto caro agli ingegneri agli ordini professionali del fascicolo del fabbricato fascicolo del fabbricato redato a partire dalla costruzione per le nuove diciamo costruzioni e a partire da un'indagine per le costruzioni già in essere dove il fascicolo non è possibile costruirlo fin dall'inizio e al fine di il decreto dice al fine di garantire la massima credibilità ai parametri di progetto non si può prescindere da un sistema di controllo e certificazione al quale conferire valore di legge ecco qui che il laboratorio assume una funzione particolare la sua prova ha valore di legge tra le sistemi di certificazione della conoscenza dei materiali e delle strutture finora pienamente attuato per le nuove costruzioni si completa anche così per i materiali da costruzione già impiegati nelle strutture e costruzioni esistenti dando attuazione ai principi di cui al capitolo 8 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni quindi i materiali impiegati nella costruzione sono differenti dal materiale di prova un mattone posato è differente da un mattone sciolto quindi prima della sua posa il mattone posato ha già ricevuto delle sollecitazioni è è stato trattato immerso in acqua è stato avvolto dalla malta da un intonaco ha subito delle modificazioni può subire delle modificazioni così come la malta e come il cestruzzo una volta posati sono soggetti all'azione di tutta una serie di agenti chimici esterni quindi la conoscenza della struttura la conoscenza di ciò che è avvenuto nella costruzione è principio fondamentale per poter studiare quel tipo di materiale l'autorizzazione per il settore delle proprie non distruttive sulle strutture esistenti definì requisiti minimi di accesso prescrive le procedure di gestione delle attività sperimentali e di certificazione risponde all'esigenza di migliorare l'applicazione delle recenti norme tecniche settori dei lavori delle opere di ingegneria civile al fine di garantire le migliori condizioni di qualità affidabilità indipendenza e terzietà nelle prove e certificazioni quindi la 633 si pone questo obiettivo qualità affidabilità indipendenza terzietà nelle costruzioni esistenti quindi studio della struttura caratterizzazione delle prove prove qualità affidabilità indipendenza terzietà questo è un principio che deve essere chiaro e qui c'è la differenza fra laboratorio e un professionista qualsiasi che pensa di fare delle prove campi di applicazione l'autorizzazione predisciplata in questa circolare riguarda un settore A che sono le prove strutture in calcestruzzo armato normale precompresso e muratura e poi un settore B che sono le prove su strutture metalliche e strutture composte la richiesta di autorizzazione per un laboratorio per riguardare uno entrambi i settori e poi inoltre il laboratorio potrà facoltativamente chiedere l'estensione dell'autorizzazione alle singole prove o all'interno del settore C che sono le prove dinamiche sulle strutture quindi un settore A un settore B e un eventuale settore C i laboratori utilizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove di quella presente circolare devono essere in grado di effettuare documentare e certificare almeno le prove elencate al successivo punto 5 meglio specificate nell'allegato 1 della presente circolare ed essere derotati tutte le apparecchiature e attrezzature a ciò necessarie e comunque dell'attrezzatura minima indicata al successivo punto 6 quindi impone delle prove minime cosa ripresa anche dai decreti precedenti 76-76-76-18 e prevede un'attrezzatura minima attrezzatura minima di proprietà del laboratorio quindi non da affittare di volta in volta poi vedremo anche perché il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale una società o un ente pubblico sono esclusi dall'autorizzazione sono esclusi dall'autorizzazione le ditte individuali società e soci rappresentanti legali o altre figure equivalenti che siano direttamente interessati in attività imprenditoriale di esecuzione di opere di ingegneria civile nonché di attività di produzione rappresentanza commercializzazione messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi delle disposizioni normative vigenti quindi se ci sono soggetti che possono che non possono garantire la terzietà l'imparzialità questi non possono essere non possono far parte di un laboratorio a prove materiali la circolare ammette anche che il soggetto gestore possa coincidere con una società di ingegneria oppure con una rete di impresa a condizione però che l'attività di prove e certificazione sia svolta su opere diverse per le quali sono stati nominati in qualità di progettista direttore lavori o consulente da questo chiarimento nasce una fac di giugno dove l'STC individua i perimetri e i compiti ben definiti quindi il laboratorio si dovrà limitare alla mera esecuzione delle prove mentre il professionista è incaricato in base alle competenze e si occuperà della progettazione del programma delle prove e dell'interpretazione dei risultati ai fini delle successive attività progetto collaudo vulnerabilità però c'è una differenziazione quindi il laboratorio fa la prova e dà un risultato grezzo non si occupa di altro l'interpretazione è riservata ai professionisti incaricati che hanno richiesto o che vengono incaricati esternamente dal cliente che ha richiesto le prove la circolare prevede che il laboratorio lavori in un regime di garanzia di qualità conforme alla norma un ISO 9001 nonché corrente con la N17025 e per quanto attiene l'organizzazione generale e la gestione della struttura a tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un sistema documentato di gestione della qualità che però deve essere gestito in modo autonomo da personale del laboratorio appositamente designato che costudisce detta documentazione ed è responsabile della sua corretta gestione ed implementazione quindi il laboratorio oltre ad avere il direttore i soggetti che comunque gestiscono hanno la proprietà gli sperimentatori deve garantirsi anche di dotarsi di personale dedicato esclusivamente alla gestione della qualità che verifica la qualità redige le procedure e fa gli audit al fine di migliorare le stesse procedure interne perché come abbiamo detto ogni cantiere è differente ogni cantiere ha una sua peculiarità e da ogni cantiere si impara sempre qualche cosa di nuovo la circolare prevede anche che l'oggetto dell'ISO 9001 eventualmente già esistente per l'attività di progettazione possa essere esteso anche all'attività coerente con la stessa questo dà l'opportunità di diciamo estendere il responsabile della qualità anche al laboratorio 633 la differente attenzione sulla gestione delle prove nelle strutture esistenti che devono garantire la sicurezza dei loro occupanti e dei loro fruitori se vince anche dalle differenti esperienze che deve avere il direttore del laboratorio e poi il personale ha detto la sperimentazione qui vediamo l'altra differenziazione fra un laboratorio prove materiali 76177 o rocce e terra 7618 dai laboratori 633 perché il laboratorio 7617 e 7618 non deve fare delle prove su strutture su strutture dove vivono le persone fa la prova sul materiale dice se un mattone è resistente e quanto può resistere dice se un calcestruzzo è resistente e quanto può resistere quanto acqua assorbe non deve fare una prova e assicurare che quel risultato che lui dà sia un risultato che possa essere interpretato a garantire la sicurezza degli occupanti il laboratorio 633 deve fare questo quando dà un risultato deve dare la garanzia che quel risultato sia coerente con lo stato di salute o meno dell'edificio perché il professionista possa dare poi una valutazione in merito al risultato e dire l'edificio può essere continuato a usare quindi posso garantire la sicurezza degli occupanti oppure l'edificio deve essere dismesso perché non sta garantendo l'efficacia degli occupanti terzietà ed imparzialità il laboratorio deve garantire la sicurezza degli occupanti deve essere terzo deve essere libero non deve avere influenza esterna perché da un'influenza sbagliata nascono problemi nascono morti il direttore del laboratorio e qui ho messo un'immagine emblematica che è un po' un direttore d'orchestra che dirige il personale il direttore del laboratorio deve dirigere e organizzare il personale che ha sotto di lui e tutto il personale deve lavorare all'unisono non ci devono essere errori incomprensioni nella gestione dei prelievi nella gestione dei provini che arrivano in laboratorio nella redazione documentale che ne deriva quindi dall'accettazione dalla gestione e dai certificati di prova finale il direttore deve essere in possesso di laurea in architettura e ingegneria ma diversamente dai laboratori 76 16 17 17 17 17 17 18 deve essere iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni e deve essere deve avere competenze professionali ed esperienza post laurea nello specifico settore dei materiali da costruzione delle prove e controlli su materiali da costruzione e costruzioni esistenti almeno decennale quindi qui vediamo che viene richiesta una competenza specifica al direttore inoltre è richiesta la certificazione della competenza di livello 3 nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell'autorizzazione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la uni 17 024 requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone e l'organismo naturalmente dovrà essere dotati uno schema di certificazione con riferimento alla norma 9712 2012 prove non distruttive qualificazione certificazione personale addetto alle prove non distruttive o a documenti equivalenti o successivi e quindi qua ci viene in aiuto la uni pdr 56 certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive quindi sono dimenticato una r scusatemi pdr 56 perché non è ancora passata ma lo sarà breve quindi la certificazione uni pdr 56 nel campo dell'ingegneria civile attesta la competenza del professionista che opera in tale ambito i cui doveri richiedono l'appropriata conoscenza teorica e pratica delle metodologie da eseguire specificare specificare supervisionare monitorare o valutare l'esigenza di una norma tecnica e di uno strumento di qualifica la certificazione accreditata secondo i requisiti definiti dalla norma stessa nasce dalla centralità e assoluta attualità che assume il tema della sicurezza delle infrastrutture strategiche e delle costruzioni sia pubbliche che private altro obiettivo da perseguire l'obiettivo è stato quello di stabilire linee guida omogenee per la certificazione del personale incaricato di effettuare prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile a fine di un informale ed elevare gli standard prestazionali richiesti agli operatori del settore quindi quindi la pdr 56 è nata per certificare il personale per le prove dei materiali da costruzione nelle costruzioni esistenti e in campo specifico per l'ingegneria civile cosa che il 9712 non faceva perché era una norma generica è mutuata dal settore industriale quindi come abbiamo visto già nelle precedenti circolari 7617 e 7618 la funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato numero congro e adeguato alle dimensioni alle caratteristiche ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato il personale detto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e per il personale richiedevano un titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado preferibilmente tecnico quindi ci poteva essere tranquillamente un diplomato dal liceo classico che veniva assunto in un laboratorio faceva due anni di attività e poteva fare lo sperimentatore senza nessuna conoscenza tecnica del diciamo dei materiali ma questo perché perché il suo compito era prendere un cubetto di calcestruzzo porlo sotto una pressa fare la prova come indicato dal dalla procedura quindi con le velocità di prova e trascrivere i risultati nel registro ho un cubetto viene schiacciato ottengo un risultato finito quindi non gli serviva avere una conoscenza specifica ma doveva solamente avere una conoscenza della procedura di esecuzione della prova finito ma noi possiamo permetterci di avere in una costruzione che ospita persone di avere in un viadotto che ha un passaggio di macchine infinito ogni giorno una persona che effettua delle prove senza una adeguata conoscenza tecnica questo no non è assolutamente possibile inoltre nella circolare 76 17 76 18 non era previsto un numero minimo di sperato di sperimentatori nessuna conoscenza delle dinamiche statiche delle strutture in opera dei danni che un carottaggio può provocare se eseguito in un punto sbagliato tracciando delle armature o senza le preventive indagini nella STC 633 questo è stato corretto la funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato in numero adeguato le caratteristiche e i settori per i quali il laboratorio è autorizzato e l'organico minimo del laboratorio è costituito almeno da un direttore due sperimentatori un tecnico con funzione di aiuto sperimentatore o assistente alle prove ricordiamoci che l'81 prevede sempre il legistro 81 sulla sicurezza prevede sempre che ci sia una squadra di due persone perché se chi effettua il lavoro ha problemi la seconda deve soccorrerlo lo sperimentatore non può essere mai mandato da solo sul campo oltre a ciò un'unità di personale di segreteria amministrativo che deve sempre presidiare il laboratorio e oltre a tutto ciò un responsabile della gestione della qualità quindi il responsabile del servizio di gestione della qualità quindi sperimentatori amministrativo aiuto sperimentatore direttore tecnico e il responsabile del servizio di gestione della qualità la qualificazione degli sperimentatori dovrà essere documentata da un titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado ad indirizzo tecnico scientifico ricordiamo nella stentasse 17 o stentasse 18 non c'era questa questa necessità perché il titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado preferibilmente tecnico invece 633 diploma di secondo grado in indirizzo tecnico scientifico nonché attività svolta nello specifico settore di materie da costruzione delle prove e controlli su materie da costruzione su strutture e costruzioni esistenti almeno quinquennale nell'altro nel laboratorio 76 17 17 18 era biennale qui mi chiedono invece 5 anni che posso esperienza che posso acquisire attraverso anche l'attività di aiuto sperimentatore quindi c'è una crescita aiuto sperimentatore sperimentatore agli sperimentatori inoltre richiesta la certificazione della competenza di livello 2 nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell'autorizzazione identiche qualificazioni a quelle che deve avere il direttore il direttore deve avere le certificazioni di livello 3 per ciascuno degli ambiti di prova per cui è autorizzato il laboratorio lo sperimentatore livello 2 nelle specifiche metodologie di prova capitolo 3.2 riservatezza e sicurezza il personale del laboratorio è tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti il laboratorio per tutte le attività svolte deve garantire il rispetto delle condizioni di terza età indipendenza e riservatezza quindi terza età indipendenza riservatezza i laboratori del suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale finanziaria o di altro genere che possa influenzare la conduzione delle prove il personale deve essere coinvolto in attività che possano ledere la fiducia nella loro indipendenza di giudizio e imparzialità nei riguardi delle attività di prova deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami delle prove da parte di persone e organismi esterni al laboratorio la remunerazione personale addetta alle attività di prova non deve essere dipendente dal numero di prove eseguite dai risultati delle stesse che cosa cerca di fare la legge cerca di garantire l'indipendenza dei laboratori no a laboratori che appartengono a soggetti gestori no laboratori che appartengano a fabbricanti di materiali da costruzione il laboratorio deve essere terzo perché perché non deve provare un materiale deve garantire che il risultato che ottiene possa essere utilizzato perché il professionista possa dire quella struttura può continuare a esercitare e a ospitare persone a far transitare traffico veicolare oppure quella struttura deve essere messa fuori produzione non posso più ospitare personale non posso più far transitare auto o posso far transitare auto ma in un certo numero a certe velocità e lì entrano in campo le prove dinamiche i lavoratori autorizzati devono essere in grado di effettuare con proprie attrezzature e strumentazioni elaborare i certificati almeno le seguenti prove e campionamenti meglio dettagliate nell'allegato 1 della presente circolare che costituiscono anche il requisito minimo per il rilascio della specifica autorizzazione il decreto non solo ci dice che io posso chiedere un'utilizzazione per uno specifico settore ma io devo essere in grado di effettuare almeno quelle prove perché quelle sono le prove minime che devo saper fare e che teoricamente dovrei fare a seconda dei livelli di conoscenza e su richiesta del progettista del piano delle prove per garantirmi il livello di conoscenza della struttura quindi settore A prove su strutture in calcestruzzo armato normale precompresso muratura dove la circolare mi dice che sono obbligatorie la magnetometrica perché devo sapere dove passano le arbellere di armatura non posso non fare un'ispezione magnetometrica della mia struttura una sclerometrica che va sempre accoppiata alla D ultrasonica per il metodo Sonreb l'estrazione che è il pull out che mi garantisce di verificare anche tramite un tassellotoro la resistenza del calcestruzzo prelevo in opera del CLS mi serve la carota per caratterizzare il calcestruzzo e per vedere l'omogeneità con le prove Sonreb o con le estrazioni di pull out a cui riferire poi tutti quei risultati prelevo in opera del provino in acciaio naturalmente io dovrò estrarre una barra per sapere che tipo di acciaio è qual è la sua resistenza se concorde magari al progetto statico che io ho reperito al genio civile l'analisi chimica perché è importantissima la carbonatazione per verificare se il mio calcestruzzo è ancora in grado di permettere all'acciaio di non ossidarsi i martineti piatti perché è la minima prova che posso fare su una muratura e poi le prove di carico statiche perché per verificare un solai poi tante prove facoltative penetrometrica adesione a strappo misura del potenziale velocità di corrosione prove statiche a compressione diagonale su muratura monitoraggio delle strutture termografie infrarossi indagini endoscopiche georadar caratterizzazione meccanica per malte di muratura umidità del legno e penetrometrica del legno poi abbiamo una carrellata di prove ringraziamo l'ingegnere Santomineo che ce le ha gentilmente fornite con la cimento abbiamo il metodo appunto sclerometrico l'estrazione di pull out qui lo vediamo col tassello toro che permette di fare un'estrazione perfetta del campione quindi un cono perfettamente circolare ultrasonica il prelievo della carota e prelievo della barra prove di carbonatazione quindi analisi chimica martineti piatti e prove di carico che possono essere appunto con i sacchi riempiti d'acqua oppure nel caso di un viadotto con camion o con bettoniere prove del settore B quindi sulle strutture metalliche e strutture composte le obbligatorie sono la magnetoscopica liquidi penetranti ultrasuoni durezze varie brine vickers rockwell lab spesso ometria e poi importantissima la misura della coppia di serraggio e il prelievo di bulloni e campioni di carpenteria le facoltative le stesse simmetria l'aspetto ometrico in sito e monitoraggio delle strutture magnetoscopica e liquidi penetranti sono tra le più importanti perché permettono di vedere comunque le criche nelle saldature e le coppie di serraggio dei bulloni sono altrettanto importanti perché con le vibrazioni di un ponte di un viadotto comunque i bulloni potrebbero iniziare a accedere e quindi a svitarsi e quindi magari il professionista con il risultato delle prove può diciamo imporre magari un riserraggio di tutta la bulloneria le durezze per verificare se l'acciaio utilizzato ha le caratteristiche specifiche del progetto oppure se devo ricaratterizzare tutto il ponte il viadotto la struttura mi serve per capire che tipo di acciaio è qui vediamo tutta una serie anche di apparecchiature per effettuare le prove spesso ommetria e le misure di copie di serraggio con chiavi dinamometriche analogico digitali l'estensimetria per verificare le dilatazioni nella struttura e arriviamo alle prove dinamiche che sono il settore invece che può essere richiesto in estensione ai precedenti due settori dove ci sono solamente due prove obbligatorie dinamiche su strutture in elevazione e tensionamento su catene tiranti ci sono stati fatti svariati corsi anche sulle prove dinamiche io purtroppo non ho potuto partecipare però sono colleghi che ho sentito che sono rimasti veramente entusiasti e non pensavano assolutamente che la prova dinamica potesse caratterizzare una struttura e potesse dare determinati risultati che sono importantissimi importantissimi soprattutto per gli affaticamenti della struttura e per la durabilità perché le vibrazioni naturalmente incidono sull'invecchiamento del calcestruzzo dell'acciaio di un viadotto in acciaio e così via e poi l'altra prova appunto dinamica è il tensionamento delle catene sottiranti per vedere appunto le forze di trazione e quanto le catene stanno assorbendo se si stanno senervando se possono continuare a lavorare e così via attrezzature e strumenti il laboratorio deve disporre alla data di attrezzature e alle autorizzazioni di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle prove e obbligature di qui sopra nella quantità adeguata rispetto al numero dell'entità e la tipologia di effettività svolta e comunque oltre agli strumenti di misura di base quali ad esempio i livelli eccetera deve disporre di almeno delle attrezzature di seguito elencate le cui caratteristiche devono essere equivalenti o superiori a quelle riportate nell'allegato 2 della presente circolare quindi per ogni settore ci sono tutta una serie di attrezzature che è necessario avere quindi attrezzature obbligatorie magnetometria quindi devo avere un pacometro sclerometria allo sclerometro e mi dice almeno due quindi anche quanti ne devo avere pull out estrazione di prova ultrasonica prelevo in opera di CLS almeno due carottatrici prelievo di campioni in opera quindi demolitore leggero smerigliatrice saldatrice a filo continuo analisi chimica calibro a corsoio per vedere appunto la misura della carbonatazione indicatore chimico e reagenti martinetti piatti sempre attrezzatura per l'esecuzione del taglio sette di basetti piatti circolari pompe idrauliche manuali sette di martinetti piatti e prove di carico uguale deformometri basette pompe idrauliche sette di martinetti per le facoltative idem come sopra prove statiche a compressione martinetti aerodinamico sistema di contrasto le pompe trasduttori con la precisione monitoraggio delle strutture sette di inclinometri a livella due sette di accelerometri e questo lo ripete per tutte le attrezzature perché le devo avere perché devono essere presenti in laboratorio e non le posso affittare perché il laboratorio deve avere attrezzature idonee periodicamente controllate e soggette ad un programma periodico di verifica della taratura almeno annuale e di calibrazione calibrazione che deve essere effettuata all'interno con i campioni di taratura all'interno del laboratorio che ne garantiscono l'efficienza operativa l'apertura dell'apparecchiatura e di misura e forza pressione e spostamenti e velocità accelerazione devono essere verificate e certificate dai laboratori ufficiali oppure da organizzi terzi di taratura appositamente accreditati ricordiamoci che non è sufficiente che io abbia un manometro tarato ma tutta la mia catena deve essere tarata quindi la pompa la tubazione il il pistone di spinta la mia catena deve avere la taratura completa quindi non è che faccio tarare il barometro e il mio sistema è a posto no e soprattutto deve essere verificato periodicamente ecco perché non posso affittarla perché comunque se io l'affitto chi me la sta affittando nonostante mi dica sì ho fatto la verifica ho fatto la taratura ma non sarà mai come avere una garanzia interna perché il laboratorio ricordiamoci che emette certificati con valenza di legge quindi l'insieme del personale dei locali attrezzature e strumentazioni organizzato secondo un sistema di qualità dà via a un laboratorio autorizzato ai sensi della 633 metodi di prove attrezzature il laboratorio deve disporre di istruzioni procedure tecniche dettagliate documentate chiaramente rappresentate sull'utilizzo e il funzionamento di tutte le apparecchiature sulla manipolazione la preparazione di materiale da sottoporre a prova e sulle tecniche procedure di prova normalizzate ci sono tutta una serie di documenti che il laboratorio deve avere a disposizione che prevedono appunto che ci siano delle tabelle dei documenti su come deve essere effettuata la prova quindi modalità esecutive opilazione preliminari compilazione della lettera d'ordine individuazione dell'elemento da sottoporre la prova preparazione della superficie di prova esecuzione della prova come lo devo fare esposizione dei risultati quindi il mio manuale operativo deve essere il laboratorio per ciascuna delle prove che io sono abilitato a fare c'è una parte 8 che riguarda la documentazione per poter richiedere l'autorizzazione che allo stato attuale non ci interessa nella nostra esposizione e comunque il laboratorio deve predisporre e descrivere l'iter procedura interna che consenta di perseguire i principi di indipendenza e integrità nonché il raggiungimento degli standard qualitativi attesi durante l'esecuzione delle prove in ogni punto della circolare vengono richiamati questi concetti dopo circa sei mesi comunque dopo aver preparato la documentazione necessaria e richiesta l'autorizzazione il laboratorio viene autorizzato ed è titolato a mettere per le prove in oggetto di autorizzazione i certificati di prova con valenza di legge certificato di prova valenza di legge un bellissimo articolo a cura di buffarini mendito l'elena mendocchio genuca colano vincenzo venturi su ingenio web prove controlli su materie da costruzione su strutture nuove costruzioni esistenti il certificato il rapporto di prova e le relazioni tecniche vi invito a leggerlo perché è molto interessante e dice che si riconosce la possibilità di emissione di certifica di prove esclusivamente ai laboratori ufficiali e a quelli autorizzati e in particolare come previsto i laboratori possono emettere i certificati negli specifici settori e prove per i quali sono autorizzati ad operare quindi il certificato con valenza di legge se il laboratorio non è abilitato a operare invece in alcune attività il laboratorio emette un rapporto di prova quindi sono due cose distinte il certificato a valenza di legge il rapporto è una verifica che viene richiesta da un committente da un progettista al laboratorio e del quale il laboratorio emette un rapporto quindi i certificati di prova emessi i certificati non i rapporti devono garantire ripetibilità riproducibilità e tracciabilità quindi il laboratorio oggi e domani deve poter ottenere lo stesso risultato naturalmente non tra dieci anni perché la struttura va subito delle modifiche il certificato deve contenere l'identificazione del laboratorio l'identificazione del certificato identificazione del richierente e il riferimento al cantiere identificazione descrizione elemento strutture oggetto della prova data e orario identificazione della specifica prova elenco dell'attrezzatura e strumentazioni descrizione procedura di campionamento eventuali variazioni aggiunte esclusioni rispetto alla specifica prova identificazione di tutti i metodi procedure non normalizzate utilizzate e le eventuali anomalie riscontrate firme e titolo dei soggetti titolari di responsabilità tecnica il certificato emesso dal laboratorio 633 deve presentare i dati ottenuti dall'elaborazione delle misure dirette della prova in una forma comprensibile ma non deve in alcun caso contenere valutazioni apprezzamenti o interpretazioni del risultato della prova deduzioni di carattere statico dinamico specialistiche ingegneristiche che sono riservate al richiedente della prova stessa ovvero ritenuta necessaria per tramite di un tecnico specialista come abbiamo visto l'imparzialità viene emesso un certificato e l'ingegnere usa quel certificato di prova con i valori ottenuti per dire la struttura è agibile e la struttura non è agibile non lo fa aprire se mi date un secondo lo recupero perché i rapporti allora come vediamo questo è un esempio di certificato il nome del laboratorio che ha eseguito la prova tutte le autorizzazioni che ha e quando gli sono state concesse quindi decreto numero del eccetera laboratorio prove su materiale costruzione indagini magnetometriche questo è l'indirizzo del laboratorio quindi la sede del laboratorio che sta eseguendo questo tipo di indagine perché il laboratorio può avere più sedi certificato numero e data numero di pagina delle prove intestatario committente opera località e il tecnico che ha richiesto il certificato il cantiere indagine magnetometrica con scanner digitale alta definizione norma di riferimento il giorno ora inizio ora fine che strumentazione di prove è stata usata lo sperimentatore il direttore prosieduciamo abbiamo una leggenda quindi cosa ci dice indagine magnetometrica le staffe in colore diverso barre sigla barre saggio visivo per taratura strumento quindi se è stato fatto anche un saggio visivo un'apertura successiva alla prova abbiamo la planimetria con la dislocazione delle prove e abbiamo il risultato del certificato vengono indicate le staffe il passo e tutto ciò che ci interessa staffe copriferro barre di armatura diametro stimato passo barre diametro diametro stimato e copriferro non è stato le note quindi non è stato possibile indagare il lato D perché c'era una temperatura immagini magnetometrica è stata eseguita a metà dell'altezza del pilastro lo sperimentatore e il direttore quindi nel certificato ci sono tutti i dati utili per individuare il punto di prova bene adesso abbiamo la seconda parte del modulo 3 che si intitola organizzazione e gestione dell'attività di cantiere sicurezza nei luoghi di lavoro durante l'esecuzione delle prove allora l'attività di cantiere presume che a Monte ci sia stata una meticolosa organizzazione del piano delle prove che consiste in acquisizione delle planimetrie dei locali che possono essere fornite dalla committenza dall'ADL autoprodotto tramite rilievo in loco uffici di genocivile reperite da terzienti studio delle planimetrie civili e strutturali elaborazione del piano di indagine primo sopralluogo e raccolta del materiale fotografico meglio se fatto con una camera 360 oppure con un rilievo laser scanner con le immagini allegate verifica in cantiere della fattibilità di esecuzione del piano di indagine perché il piano di indagine studiato a tavolino con le planimetrie potrebbe avere delle problematiche poi in loco elaborazione del piano operativo delle prove esecuzione delle prove in sicurezza e ripristino delle strutture e dei luoghi di lavoro l'acquisizione delle planimetrie qui abbiamo un esempio preso da un case study dove l'ente ha richiesto delle prove per la vulnerabilità sismica di un edificio quindi ha fornito le planimetrie e all'interno di queste planimetrie noi notiamo che già ci sono delle problematiche perché vengono indicati dei passaggi di tubazioni all'interno dei pilastri della struttura poi naturalmente in loco abbiamo notato che queste cose non sono state fatte e meno male però dalle piante che risultava questa risultavano questi dati elaborazione del piano di indagine quindi uffici mi dice che cosa devo fare quindi prove su cemento armato prove su armatura e prove ultrasoniche quindi 8 4 6 riduzione delle prove distruttive vista la tipologia costruttiva elementi prefabbricanti cemento armato vibrato e sostituzioni con prove non distruttive per verificarne l'effettiva omogeneità indagini da effettuare valutazione delle dimensioni degli elementi strutturali prove pacometriche sui pilastri verifica appoggio trave sul mensola del pilastro ieri ci hanno fatto vedere con l'ingegner Mineo una serie di prove anche sulle strutture prefabbricate perché si stava intervenendo sui nodi poi note il rilevo dei dettagli costruttivi da eseguire sul 10% degli elementi date l'analogia tra gli elementi riscontrati sulle tavole di progetto si consiglia di effettuare le indagini di cui a sinistra per almeno un pilastro laterale e un pilastro centrale per ogni piano se è possibile si effettuerà lo stesso per le trave e per gli appoggi tra i pilastri nel caso in cui i dettagli non dovessero corrispondere alle prescrizioni di progetto si effettueranno le prove sul 35% degli elementi dopo che si è fatto un piano di indagine a tavolino si è fatto il primo sopralluogo raccolta di tutto il materiale fotografico naturalmente perché prima dicevo una camera 360 o un laser scanner perché con una camera 360 o un laser scanner io posso navigare i miei ambienti in 360 gradi e quindi verificare subito se su un pilastro su una trave posso effettuare la prova oppure c'è un mobile di fronte c'è un archivio c'è una qualsiasi cosa in cantiere si verifica anche diciamo si fa un rilievo sul pilastro sulle travi oggetto di indagine questo perché bisogna prevedere anche i ripristini quindi qua dico la prima verifica la si fa sul pilastro andando a verificare se le facce sono libere se posso eventualmente su quella faccia prelevare la carota l'armatura in che posizione a che quota se ci sono degli impedimenti questo perché un pilastro dove io vorrei effettuare la mia carota magari ha una situazione del genere come faccio a vuotare l'ufficio o a chiedere che l'ufficio venga rivoluzionato per fare una mia prova naturalmente non la farò magari sul pilastro qui alla destra dove c'è il fotocopiatore la farò sul pilastro a sinistra oppure una situazione come quella che vediamo a destra dove il pilastro è rivestito con un betoncino rei che è una specie di cellulosa in fase di ripristino che era comunque in capo al laboratorio il laboratorio doveva preventivare appunto il ripristino di questo betoncino rei che necessitava di asportazione perché dovevano essere fatte le prove pacometriche e dovevano essere fatte anche i prelievi di carota quindi a sinistra abbiamo un'elaborazione di piano operativo delle prove e a destra invece abbiamo il rilievo sul posto quindi la verifica dei punti di ispezione quello previsto nel piano operativo lo posso fare o non lo posso fare i punti di indagine li devo spostare o no e qui appunto abbiamo il piano l'elaborazione del piano operativo delle prove con il piano di indagine da realizzare in cantiere che è quello che poi dovrà essere naturalmente messo in bella e dato al laboratorio prove materiali quindi edificio ufficio quante carote devo fare dove le devo fare quanti prelievi d'armatura su quali pilastri quante prove ultrasoniche e su quali pilastri le verifiche e poi le riduzioni prima abbiamo prima abbiamo visto che nel progetto iniziale prevedeva che ci fosse un aumento e in caso non si potessero fare tutte le prove qui invece dice no attenzione c'è l'omogeneità quindi possiamo mantenere tranquillamente le riduzioni quindi verifica in cantiere della fattibilità di esecuzione a quel punto dopo che io ho il mio piano operativo naturalmente farò le mie prove pacometriche le mie prove pacometriche poi mi diranno se effettivamente io posso fare le indagini che avevo previsto nel piano operativo e inizio a fare le indagini a destra vediamo quel betoncino re di cui vi parlavo che è stato completamente scrostato in modo da fare appunto la prova pacometrica e poi il preevo del provino naturalmente tutti i pilastri vengono segnati e individuati in modo che si possano riferire quelle prove e quel campione a quel determinato punto di prelievo vediamo le analisi di scenari operativi e riferimenti al DLGS81 quando noi facciamo le verifiche queste verifiche possono essere effettuate in diverse tipologie di fabbricato ci possono essere edifici che sono diciamo all'aperto quindi edifici liberi un ponte un viadotto una galleria libero o diciamo momentaneamente liberabile oppure un edificio abbandonato dove io posso entrare e fare determinate prove oppure ci sono edifici che sono occupati quindi come quello che abbiamo visto prima sede di un'attività lavorativa continuativa dove noi dobbiamo andare a convivere con delle situazioni lavorative esistenti in tutte queste situazioni noi però abbiamo diciamo delle caratteristiche comuni che sono l'interazione con la proprietà la DL il RUP al fine della calendarizzazione delle prove la messa a disposizione di acqua e corrente servizi igienici necessità di montare i ponteggi tra batelli spazi che possono essere all'aperto o al chiuso e lavori in prossimità di parti attive che sono linee elettriche cavi dotti o vani dove ci sono cabine elettriche trasformatori e queste sono diciamo delle interazioni che si hanno per tutte le tipologie di edificio poi se l'edificio è libero noi invece possiamo avere un pericolo di crolli dovuto allo stato di vedustà o di abbandono dell'edificio o un pericolo di agenti patogeni o animali di uccelli ratti eccetera molto spesso capita di dover fare delle prove in teatri strutture pubbliche abbandonate porzioni di edificio che da tempo hanno vetri roti dove si vanno a affrontare delle situazioni che non sono proprio igieniche queste situazioni vanno verotate già nella predisposizione del piano di indagine perché poi deve essere previsto anche un sistema magari di pulizia di ristoro dei luoghi per far lavorare i nostri sperimentatori in un luogo comunque igienico oppure l'edificio può essere occupato e qui le cose si complicano un po' perché l'interazione con l'ufficio ospitanti poi prevede che si debba avere un'interazione appunto dovuta a turni di lavoro possibilità di trattenersi oltre l'orario d'ufficio se c'è per esempio un servizio di guardiania occupazione dei locali oggetto delle prove il locale può essere libero occupato continuamente occupato oppure non accessibile perché magari c'è una cassaforte o c'è una stanza riservata un centro operativo per esempio delle forze dell'ordine dove comunque bisogna entrare con determinate caratteristiche e gestire la situazione in determinati modi la possibilità o meno di montare ponteggio tra batelli perché magari si entri in un ufficio dove per motivi organizzativi non si può montare un trabatello o ci viene negata questa possibilità lo sviluppo di polveri e macerie che è importante se io devo effettuare una prova che dura 30 minuti un'ora e dopo quell'ora l'ufficio comunque deve essere agibile perché deve continuare il suo lavoro io devo prevedere un'interazione con il RUP o con l'occupante dell'ufficio al fine di organizzare il lavoro sviluppo di fappori di salvatura che sono analoghi allo sviluppo di polveri danneggiamenti dei locali dovuto uso di acqua per tagli carote con lama a disco tempistiche di lavorazione ripistino dei luoghi di lavoro quindi vediamo la prima parte servizi igienici allegato a quarto troviamo il riferimento nel capitolo 1.3 possono essere dislocati nella struttura ospitante o essere individuati nelle vicinanze o possono essere servizi della struttura che ci vengono messi a disposizione spazi aperti o chiusi c'è un problema del microclima e nei post che vedremo successivamente questo problema è affrontato l'ambiente troppo caldo troppo freddo compromette l'attenzione del lavoratore di solito la sua attenzione da gesti banali che è abituato a compiere durante le fasi delle prove verifica di integrità di cavi corrente cavi deteriorati posizionati in maniera di intralcio durante le lavorazioni corretti serraggi delle bullonerie delle attrezzature in dotazione errato fissaggio dei supporti delle carotatrici o seghe circolari errato serraggio dei manicotti ad altra pressione dei macchinari di prova martiniti idraulici azionamento delle apparecchiature senza essere in una condizione di sicurezza stabilità posturale stabilità del piano di camminamento se noi ci troviamo per esempio in un data center che è climatizzato a 10 gradi avremmo necessità di avere attrezzature di protezione dal freddo oppure se ci troviamo su un viadotto esposti al sole e abbiamo lo stesso una necessità di utilizzare dei sistemi che ci permettano di proteggerci quindi degli ombreggiamenti dei teli dei gazebo il piano operativo delle prove deve dare anche queste indicazioni quando viene fatta l'ispezione agenti spazio aperto chiuso sempre riferiti al legato 4 difese degli agenti nocivi sostanze volatili sostanze infiammabili sviluppo di gas tossici possiamo essere in una raffineria in un stabilimento chimico e dobbiamo sempre prestare attenzione a questi fattori tante volte ci è capitato di leggere sui giornali morti lavoratori entrati a pulire una cisterna perché c'è stato sviluppo improvviso di gas tossici di cui non si era a conoscenza se io devo fare delle prove spessimetriche in una cisterna e ho necessità di entrare all'interno della cisterna per una svariata serie di motivi quella cisterna potrebbe contenere dei gas nocivi o sviluppare gas nocivi di cui neanche il conduttore dell'opera è a conoscenza ma io devo poter mettere in sicurezza i miei sperimentatori i miei sperimentatori che comunque sono tecnici devono poter sapere che possono contare su delle attrezzature che mi garantiscono una sicurezza quindi un dispositivo di protezione collettivo in primo luogo oppure un dp quindi un dispositivo di protezione individuale difesa contro le polveri spesso i luoghi dove seguono le prove sono polverosi o luoghi dove vengono effettuate lavorazioni che producono polveri infatti di per sé le attrezzature di prova crotatrici sega e freddico sono sempre dotati di doni aspiratori o supporti per taglio ad acqua in modo da abbattere significativamente la produzione delle polveri sottili quindi in ogni caso io devo anche prevedere le maschere o gli strumenti adeguati misure misure l'incendio delle esplosioni alcune prove potrebbero essere rifiutate in luoghi dove si usano solventi o materiali che sono facilmente infiammabili come vi ho detto prima tagli con disco carote forature impatti con strumenti a percussione potrebbero creare scintille che potrebbero essere d'innesco a incendi o esplosioni necessità di montare ponteggio tra battelli lavori in quota scale e protezioni contro le cadute le troviamo nel capitolo 4 nel titolo 4 capo secondo articoli da 101 a 116 e poi 131 a 140 lavori in quota scale e protezioni contro le cadute dall'alto è sempre bene ricordare che i dpc quindi i dispositivi di protezione collettiva hanno sempre una gerarchia superiore rispetto ai dpi e pertanto è bene verificare preventivamente che i dpc siano correttamente progettati implementati ed eventualmente segnalare le anomalie al responsabile dei lavoratori per la sicurezza ponteggi fisi e ponteggi immobili ricordiamo che il ponteggio può essere montato da una ditta da cui dipendiamo o essere di proprietà della committenza dell'appaltatore quindi io posso avere il ponteggio di proprietà del laboratorio oppure il ponteggio messo a disposizione della mia committenza ciò non ci esime dal verificare che i nostri lavoratori salgano su un ponteggio efficiente e a norma quindi un lavoro eseguito in un ambiente comunque ostile può abbassare la soglia di attenzione sulle sicurezze di attrezzature che ci arrivano o che dobbiamo utilizzare provenienti da società terze o dei nostri committenti sempre un occhio d'attenzione sempre una squadra di due persone che si controllano a vicenda l'articolo 117 per lavoro in prossimità di parti attive ci si riferisce la situazione in cui occorre effettuare lavoro in prossimità di linea elettrica o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette molti sono i casi in cui effettuare nell'effettuare un taglio un foro una carota ci troviamo nelle condizioni di incontrare una tubazione in estensione e a volte anche in alta tensione per la nostra altruisicurezza è sempre bene rimarcare al servizio di protezione che ci affiancano i cantieri operativi affinché disarmi tutti i circuiti non strettamente necessarie alle prove che stiamo andando a svolgere rimanano attive solamente le linee elettriche necessarie ad alimentare le attrezzature di prova o se necessario tenere attive le altre linee queste dovranno essere perfettamente segnalate se non ci sentiamo sicuri usiamo un generatore usiamo un gruppo di backup ormai ci sono le batterie a litio che con 15 kg di peso ci garantiscono 2-3 kilowatt di autonomia all'ora quindi sono situazioni in cui ci si può organizzare e si possono utilizzare strumenti alternativi se abbiamo paura che nella muratura dove noi per esempio dobbiamo fare il taglio per i martinti piatti possano passare delle linee andiamo a analizzare i pericoli nei luoghi liberi quindi nei luoghi dove non ci sono occupanti ponte gifisi e ponte g immobili come l'abbiamo già visto nel nella parte precedente io ho sbagliato la slide mi dovete anche scusare il pericolo di crolli nelle strutture libere che comunque hanno una certa vettustà c'è un pericolo non infondato di crolli della struttura quando noi eseguiamo le prove ci dobbiamo sempre mettere in una condizione di sicurezza quindi se non è strettamente necessario entrare dentro la struttura in questo caso tutte le prove del piano di indagine devono essere deve cercare di eseguirle dall'esterno se si dovesse entrare dentro e ci sono dei pericoli di tal genere è sempre bene utilizzare delle strutture di protezione magari far pontare un piano di ponteggio quindi una serie di cavallotti con delle tavole di protezione superiori o per disporre delle tavolati che ci conducano alla zona dove noi dobbiamo effettuare le prove questo permetteci sempre in condizioni di sicurezza come ho visto gli agenti di patogeni invece possono essere dovuti alla presente le direzioni di uccelli o altri animali pensa di agenti patogeni dovuti al luogo di lavoro ospedali laboratori di analisi quindi quando ci troviamo in luoghi a rischio biologico anche qui maschere seguire le indicazioni del loro sistema della loro gestione di qualità scusatemi della loro della gestione del sistema di sicurezza e mettersi sempre in una condizione di sicurezza non toccare nulla che non ci competa e muoverci sempre con calma e senza fretta alcuni agenti patogeni poi possono essere presenti anche in strutture abbandonate pertanto le persone dovrebbero esimersi dal toccare o mangiare provete bottiglie qualsiasi cosa venga reperita in loco qualsiasi cosa venga reperita in loco datemi un attimo così anche se interessante come souvenir quindi non si tocca nulla interazione con gli uffici ospitanti spesso l'interazione con le strutture che sono occupate dei residenti o lavoratori non è un'interazione semplice e lineare anzi la desiderata della committenza stazione appaltante dei mani o amministrazione condominiale si scontra con la volontà degli occupanti di trascorrere la loro vita ordinaria senza la presenza di personale estraneo pertanto non è raro che l'operatore venga ostacolato dai conduttori dell'immobile e dagli stessi lavoratori con scuse più disparate quindi quello che noi abbiamo preventivato nel nostro piano di indagine le nostre indagini che dovevano durare una settimana a volte non durano una settimana perché mancano tante cose che vedremo i turni di lavoro per esempio si scontrano spesso e volentieri con la programmazione dell'attività in cantiere il più delle volte le lavorazioni programmate subiscono variazioni a causa dell'indisponibilità di un ufficio o di un appartamento è sempre bene programmare le attività tenendo un certo numero di prove di riserva da eseguire in locali o porzioni di edificio di libero accesso in modo da non far rimanere le squadre in operose e massimizzare il numero di prove in relazione alle tempistiche degli sperimentatori fuori sede questo è quello a cui ci riferivamo prima magari abbiamo appuntamento per fare delle prove all'interno di un ufficio quell'ufficio è chiuso quell'ufficio è chiuso perché il dipendente è andato in ferie una settimana e l'ufficio non si aprirà per una settimana perché è andato a fare un corso perché è influenzato e ci sono uffici che non vengono aperti neanche dei dirigenti perché per esempio gli uffici tecnici comunali spesso e volentieri gli occupanti lo chiudono a chiave perché dentro ci sono pratiche che non devono essere toccate che sono sotto la loro responsabilità alcune volte vi è la possibilità quando vi è la presenza di complessi sorvegliati di lavorare fuori dagli orari di lavoro tale pianificazione va valutata con la committenza secondo la disponibilità degli accessi e la necessità di illuminazione naturale per i locali privi di luce naturalmente alcuni fattori limitanti la realizzazione delle prove oltre all'orario di lavoro è la possibilità di accendere generatori di corrente in aree che sono privi a causa dell'eventuale inquinamento acustico ecco allora che lì ci vengono incontro i pacchi batteria e i generatori portatili a batteria a noi è capitato di fare delle indagini e ci sarà data la possibilità di trattenerci oltre l'orario di lavoro e invece poi a conti fatti questa possibilità ci è stata negata quindi programmazione di una serie di prove in esterna che non potevano avvenire perché tutti gli spazi anche aperti dovevano essere chiusi occupazione di locali oggetto delle prove l'occupazione di locali oggetto di prove si collega direttamente a ciò che è stato detto per interazione con gli uffici ospitanti inoltre capita spesso che alcune prove vengano negate perché in prossimità del luogo di esecuzione esistono archivi con faldoni mobili macchinari attrezzature che il cliente non permette di toccare pavimenti particolari e così via conteggi e trapattili normalmente è possibile montarli il primo sopralogo serve proprio a verificare che le prove possono essere fatte con e senza l'ausilio di opere provvisionali e che queste quando siano della committenza o dell'impresa incaricata siano conformi alla normativa ed efficienti per il lavoro che dovremmo compiere polveri e macerie non tutti i cantieri ovi andremo a operare vi è la possibilità di effettuare tagli con disco con carota le attrezzature prodotte di aspiratori possono dar luogo a polveri fini che pregiudicano le attività lavorative anche per giorni o fino a quando il servizio di pulizia non effettuerà il ripristino dei locali alcune attività pertanto vanno concordate e organizzate oltre che con le squadre di muratori e saldatori per i ripristini strutturali anche con una squadra di pulizia ordinaria per ripristinare le postazioni di lavoro come detto prima in molti uffici si entra molti uffici hanno attività lavorativa danno la possibilità di entrare fare effettuare le prove però poi il personale deve continuare a svolgere la sua attività e magari capitiamo non lo so in un servizio raggenuoria proprio nella settimana di chiusura delle paghe o nella settimana in cui si chiude il bilancio ma saranno molto mal disposti i dipendenti a lasciarci l'ufficio libero e quindi a perdere anche quell'ora di lavoro che poi dovranno recuperare quindi queste attività vanno verificate la programmazione va fatta con coscienza in questi casi perché se no si rischia di allungare i tempi e quindi di non rientrare con i costi sviluppo di polveri di saldatura idem come sopra l'alleggiamento dei locali non in tutti i locali si possono fare tagli con disco o con carota oppure utilizzare acqua se non recuperata ci sono sempre alcuni committenti che possono precrudere l'utilizzo non lo so l'occupante di un appartamento con un pavimento o un parquet che non vuole sentire ragioni e non vuole che si faccia un taglio con un disco oppure che non si faccia una carota sul muro sul pilastro quindi in fase di sopralluogo è sempre bene anche indicare nella scheda di rilevamento questi dati oppure quali sono le opere che il cliente desidera che vengano approntate al fine di non causare problemi calcolo delle tempistiche una variabile non trascurabile nel conto economico dei laboratori soprattutto con le pubbliche amministrazioni bisogna dare conto di chiavi locali che spariscono ditte che dovrebbero aprire fani ascensore che non si presentano ferie malattie dei dipendenti adette all'accompagnamento e colleghi che non si accollano a notare onere operi messa in sicurezza di impianti elettrici che non può essere effettuata perché non c'è il servizio manutenzione proprio non esiste e tante altre ed eventuali che possono capitare ripristino dei luoghi di lavoro le strutture dovrebbero essere ripristinate al fine di garantire ripristino la loro funzionalità pertanto ripristini come quelli della fotografia accanto sono deprecati è pur vero che la struttura non assorbirà i carichi come veniva a pre-prova ma tale assunto non ci esime da un ripristino a regola d'arte ingegnere Mineo ieri ci ha fatto vedere appunto come le forze variano la loro intensità all'interno del pilastro dopo che viene fatta una carota ma anche se c'è questa deviazione il fuori o il ripristino delle armature devono essere fatti a regola d'arte non possiamo fare un ripristino all'acqua di rose solamente perché poi tanto lì non lo vede nessuno tanto quella barra poi andrà coperta e non serve più a niente no ripristini vanno fatti con scienza e coscienza e da personale che possa fare quel tipo di ripristino adeguatamente formato abbiamo finito anche la seconda parte non so se volete fare cinque minuti di pausa oppure proseguiamo caro prosegui pure prosegui pure anche per me va bene proseguire perfetto allora prima indicazione sulla valutazione di richieste sull'uso dei dpi e delle attrezzature allora questo è uno schema classico della diciamo del flusso della sicurezza all'interno del cantiere l'impresa fa un documento di valutazione dei rischi esiste un piano di operativo di sicurezza per il cantiere se ci sono altre imprese diciamo se ci sono altre ditte che lavorano contemporaneamente a noi viene realizzato il duvri che è il documento unico di valutazione dei rischi e interferenze allora se entriamo solamente noi in cantiere come abbiamo visto prima noi dobbiamo fare il nostro documento di valutazione dei rischi ma il post non è sempre obbligatorio se esiste un ufficio in cui si va diciamo occupato dove ci sono altre persone noi dobbiamo adeguarci al loro piano di sicurezza e coordinamento che deve essere fatto bene come deve essere fatto bene il nostro documento di valutazione dei rischi e il nostro post per il cantiere oggetto delle prove vedremo adesso che ci sono dei documenti che sono generici li andremo ad analizzare in questa fase questi documenti generici secondo me ma anche secondo diciamo poi gli ispettori della ASL non servono a niente perché i lavoratori non li vanno a leggere sono magari documenti con 100 200 pagine che poi non ci danno sentore non ci danno polso di qual è la situazione che noi dovremmo ci troveremo ad affrontare nel cantiere iniziamo adesso con variati post duvri e poi di come dovrebbe essere un post fatto bene allora parti generali del post quindi committenti imprese esecutrice subappaltatrice quindi chi è che ha fatto chi sta realizzando le prove e tutte le qualifiche di responsabili qual è la qualifica dei lavoratori dipendenti che cosa quali sono le funzioni quindi quali sono le specifiche mansioni indennete alla sicurezza di ciascuno degli addetti della società che dovrà effettuare le prove quindi responsabili di servizio protezione e protezione addetto al primo soccorso addetto antincendio addetto all'evacuazione cosa specifica attività e operazioni svolte in cantiere quindi su questo cantiere cosa dovrò andare a fare carotaggi indagini endoscopiche magnetometriche pull out sclerometriche prevo di campioni ripristino dei punti d'indagine e smobilizzo dei cantiere le documentazioni con gli attestati di qualifica quali sono le vetture e come è organizzato il cantiere iniziamo a vedere che viene fatta una valutazione sul microclima è un viadotto autostradale quindi esposizione al microclima caldo severo dettoglie pensiline i lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta e poi i mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate indumenti protettivi radiazioni ottiche naturali quindi gli occhiali da sole i lavori all'aperto sono effettuati evitando le ore più calde della giornata quindi immediatamente c'è una pianificazione delle introduzioni lavorative durante certi orari o limitate per esempio solamente la mattina misure di prevenzione e protezione generali illuminazione quando l'abbandono imprevedibile immediato del governo delle macchine o degli apparecchi e si ha pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti di disponibilità con mezzi di sicurezza di entrare immediatamente in funzione in caso di necessità a garantire un'illuminazione sufficiente qui per esempio nel piano operativo non viene specificato se queste misure di emergenza sono messe a disposizione dal committente o gli sperimentatori le devono portare come loro attrezzatura o se il cantiere viene già diciamo predisposto in accantinamento per avere questi tipi di illuminazione ci sono le segnalettiche indagini diagnostiche strutturali la valorazione suddivisa nelle seguenti fasi e sottofasi quindi come devono avvenire tutte le fasi di lavoro e qui man mano si va diciamo all'analisi delle fasi quindi l'addetto al carotaggio quali tipi di protezioni deve avere a quali rischi è esposto e quali sono le attrezzature che dovrà andare a utilizzare endoscopia per esempio macchina attrezzi trappano elettrico che ha il microfono aperto aspetta un attimo allora prove scheleometriche ultrasoniche e andiamo avanti attrezzature utilizzate per le lavorazioni ci sono apparecchiature che non hanno diciamo grandi problematiche per esempio attrezzature ultrasoni incendi ed esplosioni ma normalmente sono attrezzature diciamo che vanno a batteria quindi non ci sono questi gravi rischi se non è per una batteria che può danneggiarsi attrezzi manuali carottatrice urti colpi impatti compressioni le carottatrici normalmente sono sempre agganciate tassellate al muro è difficile che la carottatrice venga anzi no è impossibile che la carottatrice per estrarre una carota venga utilizzata a mano come si vede fare invece da molti muratori che vengono diciamo istruiti per per fare questo tipo di prelievo quindi gli urti colpi impatti possono avvenire solamente nella movimentazione dell'apparecchiatura l'endoscopio non ha nessun tipo di problema il pacometro sempre dovuto alla batteria incendi ed esplosioni saldatrice invece ricordiamoci sempre quello che abbiamo detto microclimi avversi possono dar via cali della tensione quindi un cavo che è stato crimpato da un'attrezzatura che può dar adito a diciamo spellamenti di fili può causare problematiche di elettrocuzione quindi attenzione alle attrezzature medigliatrice in colore flessibile in azione di polveri fibre punture tagliabrasioni idem come sopra nei cantieri occupati quando si utilizzano questo tipo di attrezzature bisogna sempre stare attenti al classico pensionato dico io che assiste alle lavorazioni o che vuole assistere ricordiamoci sempre che nonostante il luogo doveva essere sgombero c'è sempre la persona che tenta di partecipare all'attività svolta perché non vuole abbandonare la stanza perché non ci vuole lasciare soli perché ha paura perché ha paura che tocchiamo qualche cosa di suo e quindi attenzione oltre alla sicurezza nostra nel momento in cui non dovessimo riuscire a liberare l'ambiente di assegnare diciamo dei dispositivi di protezione anche alle persone che ci circondano vengono usati i trapani vengono utilizzati quindi tutta una serie di attrezzature diciamo di uso comune elenco dei dpi e basta quindi questo è il primo pos in questo piano operativo come si vede non c'è riferimento al fatto di di utilizzo di alcune attrezzature da parte di proprietà della committenza se i nostri lavoratori dovessero avere il posto in mano e andare in cantiere che cosa trovano nel cantiere quali sono i rischi specifici di quell'opera oltre ai rischi generali questi sono dati che secondo me dovrebbero essere inseriti e dovrebbero essere inseriti e rilevati con la prima verifica che si fa quando si fa il piano delle indagini quindi io faccio il piano delle indagini e prendo anche gli appunti di sicurezza e dico attenzione guardate che ci sono queste problematiche quindi quando renderò il mio piano di sicurezza poi andrò a inserire individuare anche quelle problematiche analizzate in fase di verifica iniziale di sopralluogo iniziale poi vediamo un duvri documento unico valutazione rischi interferenze questo è per un ufficio pubblico anche questo duvri allora guardate come è fatto questo documento in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'appaltatore al fine di eliminare l'interferenza in ottemperanza con si possono considerare interferenti i seguenti rischi messi nei luoghi di lavoro derivanti da sovrapposizioni esistenti in luoghi di lavoro da modalità di esecuzioni particolari allora il presente documento duvri contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi standard derivanti dalla possibile interferenza tra le attività svolte dal concorrente risultato aggiudicatario da quelle svolte da persone delle amministrazioni ed eventuali altri soggetti presenti o operanti negli immobili oggetto di gara tale documento dovrà essere condiviso eventualmente integrato prima di iniziare prima dell'inizio dell'attività connesse all'appalto in effetti spesso e volentieri questo è l'unico documento di valutazione rischi interferenze perché viene redatto magari dal provveditorato delle opere pubbliche ma l'edificio che noi poi andiamo ad analizzare non appartiene al provveditorato non è occupato dal provveditorato è occupato da da Emanio è occupato da da una stazione di polizia è occupato da i più svariati enti enti che hanno un loro documento dei rischi allo stesso modo generico si entra nell'ufficio e non c'è poi un reale documento unico di valutazione rischi perché per svari motivi non viene redato infatti qui si dice che il presente documento reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard i soggetti presi i quali deve essere eseguito il contratto prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio integrano il presente documento riflettendo rischi specifici da interferenza presenti nel luogo di lavoro in cui verrà esplettato io mi chiedo ma nel momento in cui viene redato questo che è riferito a uno specifico edificio perché non viene redato direttamente un documento unico invece di un documento che poi non ha assolutamente nessuna utilità operativa quindi che non dice ai nostri lavoratori ai nostri sperimentatori che entrano in cantiere quali sono le interferenze che andranno a incontrare è un documento generico qui mi dice cosa devo fare qual è il titolo di lavoro e quali sono le indagini che dovranno essere eseguite bene però non sta integrando niente non non dà una contezza di quali siano poi le problematiche interne all'edificio prima le cellarie interessate dovranno concordare con il datore di lavoro le modalità di effettuazione dell'attività e formalizzare misure di prevenzione e prevenzione concordate sfido io a trovare qualcuno che ha fatto una riunione tecnica dove sono state valutate queste interferenze perché è semplicemente un documento generico e viene fatto copia e incolla esatto 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 non c'è nient'altro e scarica sull'appaltatore tutte le responsabilità come fanno dispesso le pubbliche amministrazioni e non è una cosa invece omissibile perché comunque il documento unico di valutazione dei rischi deve essere redato dalla committenza non dall'appaltatore anche qui abbiamo poi un duvri che riguarda le scuole ma ricalca esattamente lo stesso duvri precedente poi vediamo un post invece redato dalla sapienza allora mi dà un organigramma una serie di sedi descrizione dell'opera e anche qui non dà praticamente come altre indicazioni se non quelle iniziali che abbiamo visto negli altri post adesso andiamo a vedere questo post allora inizia in maniera differente breve descrizione dell'attività lavorativa obiettivo della campagna di indagini sperimentali da eseguirsi dove con le foto sarà quello di caratterizzare i materiali e di monitorare lo stesso controlli non distruttivi quali sono tutti i controlli che devo fare qualificazione meccanica dei materiali cosa devo fare monitoraggio cosa devo fare l'analisi dell'analisi dei rischi effettuati non risultano necessarie riduzioni in particolare dei dispositivi di sicurezza pertanto verranno adottate le misure strettamente legate all'attività di rilievo strumentale si dovranno adottare misure adeguate di sicurezza per l'utilizzo di una chiata e così via vengono inserite le foto quindi ad esempio delle attrezzature che dovranno essere utilizzate responsabili in cantiere criteri generali si inizia l'elaborazione del POS un POS reale che serve agli sperimentatori ad analisi emergono rischi interferenziali per motivi riportati nella descrizione dell'attività pertanto necessaria la valutazione di tali rischi se esistono interferenze dovrà essere redato il duvri e i relativi costi tutti i rischi sono stati valutati nel paragrafo 5 del quale sono stati riportati anche i dp programma di miglioramento programma di miglioramento nel tempo di livello di sicurezza è stato fatto tenendo conto della brevissima durata dell'attività uno o due giorni pertanto non è tornato necessario effettuare una serie di controlli in conformità la descrizione dell'attività di cantiere del motivo dell'organizzazione dei turni di lavoro l'enco delle opere provvisionali l'individuazione delle misure preventive e protettive e integrazione rispetto a quelle contenute nel PSC quando prevista adottata in relazione rischi connessi alle specifiche lavorazioni in cantiere quindi specifiche lavorazioni il PSC e il generale il POS e l'operativo l'enco dei dispositivi di prevenzione e protezione la documentazione in merito l'informazione e la formazione fornita ai lavoratori per i rischi risivi potenzialmente presenti nelle singole lavorazioni programmate nel presente post sono stati adottati procedimenti di comportamento per le varie fasi lavorative e per l'uso di macchinari indicazioni sui mezzi di protezione collettiva responsabilità e funzioni quindi chi è responsabile e quali sono i suoi compiti chi sono le persone individuate andiamo giù questa è la parte generica obblighi misure generali di tutela mantenimento in cantiere le condizioni ordinate di salubrità movimentazione dei materiali manutenzione controlli allora come è stata svolta la formazione dei lavoratori è stata svolta secondo il programma legato e verrà ripetuta nei casi di trasferimento a cambio manzone introduzione di nuove attrezzature il ripartimento assicurato l'adeguata e specifica formazione dei preposti in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza allora riferimento operativo come deve essere seguito quindi l'espedimento di campagna in promisito per la recreditazione di batterie in opera di elementi in calcio gesto armato consistente in strutture portanti mediante le seguenti indagini sperimentali si ripete quello che abbiamo visto in calcio al documento macchine e attrezzature quindi cosa devo fare come le devo impiegare potenziali rischi cadute materiali dall'alto caduta di persone lavorazioni indisagevoli e qui iniziano le schede scala pioli cosa devo fare per gli addetti verificare l'esistenza di dispositivi antisdrucciolevoli quindi sia che la scala l'abbia portata io che la scala mi sia stata fornita alla committenza io cosa devo verificare usare la cintura di sicurezza gli operatori a terra cosa devono fare verificare le integrità quali sono i possibili rischi ponteggi gruppi elettrogeni prima dell'uso durante l'uso dopo l'uso per ogni attrezzatura mi dà una scheda procedurale dove mi dice effettivamente cosa devo fare perché lo devo fare e perché alla fine quindi dopo l'uso devo adottare una determinata procedura la devo adottare perché la squadra che la userà dopo di me quell'attrezzatura dovrà averla fruibile immediatamente al di là poi del controllo annuale di integrità che devo fare delle mie attrezzature quindi cosa devo fare per esempio durante l'uso qui si parla di carottatrice con tracolpi dell'utensile dovuti al cedimento del materiale lavorato ad esempio si parla dei dp utilizzo dei dp utilizzo dei guanti come devo fare perché li devo usare uffi auricolari e man mano andiamo avanti protezione durante lo scarico dei materiali e qui con le schede naturalmente classiche che normalmente vediamo di analisi dei rischi ma nell'uso delle attrezzature vediamo che viene specificato appunto le fasi operative di uso dell'attrezzatura quindi tutta la procedura al fine di evitare problematiche di instabilità negli strutture in oggetto del carottaggio dovranno essere rigorosamente osservate le seguenti prescrizioni per esempio gli elementi da carottare durante il sopralluogo concordato dovranno essere individuati senza la possibilità di equipi con il sito cioè devo andare devo sapere che devo fare quella carota lì perché lì non ci sono altri problemi di rischio specifico l'individuazione degli elementi di struttura di carota sarà eseguita dal comitente o da un tecnico in caso di lui incaricato sulla base di un'accurata analisi dei caricagenti sugli elementi indagati tale calcolo dovrà essere sottoposto all'approvazione del nostro responsabile alla sicurezza in cantiere gli elementi strutturali individuati dovranno essere adeguatamente puntellati i fuori lasciati dall'operazione di carotaggio andranno richiusi a cura del comitente secondo le indicazioni eccetera le puntellazioni non dovranno essere rimosse fino a quando le malte di risarcitura dei fuori non avranno raggiunto la resistenza compatibile con la sicurezza degli elementi strutturali e così via quindi qua vediamo che è stato redatto un piano che poi diventa fruibile è leggibile dai propri dipendenti dai propri sperimentatori inoltre a conclusione diciamo di di tutto ciò vediamo un documento che la una richiesta diciamo fatta alla regione dove viene richiesto appunto in risposta all'ASL di Firenze e ai direttori di prevenzione dell'ASL della Toscana quindi richieste di chiarimenti pervenuti alla vostra azienda nel 2008 si forniscono le seguenti indicazioni in merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla vostra azienda via mail alla domanda le operazioni le operazioni di indagini geologiche e geotecniche con relativi sondaggi e scavi sono da ritenere un cantiere edile e pertanto la stazione appaltante deve far predisporre il piano di sicurezza e coordinamento o sono da considerare forniture e servizi e quindi deve predisporre il duvri se ci sono interferenze tra operatori diversi la risposta se le indagini non sono parte integrante della realizzazione di una specifica opera non rientrano nel campo di applicazione del titolo quarto non essendo ricompresa l'attività fra quelle elencate nel legato decimo se le operazioni relative alle indagini geologiche o geotecniche sono parte di un'opera più complessa quindi in sostanza una fase di lavoro è prevista nel cantiere la presenza di più imprese fatto salvo a quanto predisposto deve essere nominato il coordinatore in fase di progettazione e deve essere redato il piano di sicurezza e coordinamento quindi se io faccio un'indagine in cantiere per esempio un'indagine geologica perché devo fare una nuova costruzione oppure devo fare dei saggi sulle strutture esistenti perché devo fare una sopraelevazione e ho già un accantieramento quindi ho già un cantiere avviato con inizio lavori allora devo fare appunto il PSC se non ho niente in mano il locale è vuoto devo fare solamente il mio piano operativo se invece ci sono degli uffici dovrò fare il duvri questa è la diciamo questa è la risposta sostanzialmente della del servizio io vi ringrazio per l'attenzione quindi adesso dovremmo iniziare con la parte di domande Stefano probabilmente ci doveva dare un esempio di di piano delle indagini allora grazie innanzitutto Marco per la bella esposizione allora innanzitutto facciamo un giro di domande fresche poi se c'è tempo vi faccio vedere delle cose io c'è qualcuno che vuole porre Marco Emanuele qualche domanda Claudio Claudio apri pure il microfono e il video grazie ovviamente a Marco per l'esaustiva esposizione volevo solamente esprimere un pensiero sulla proprio la prima cosa che lui ha detto che ha raccontato che il nonno ha costruito dei palazzi che sono stati appena adesso dopo 70 anni manutenzionati e via via poi gli ultimi invece che dopo dieci anni hanno bisogno di manutenzione e questo molto probabilmente è dovuto a una cattiva utilizzo non a una cattiva utilizzo dei materiali ma ai materiali che non sono più quelli di una volta io credo che questo sia dovuto invece a una cattiva utilizzazione dei materiali moderni che non sono certamente più quelli di una volta ma che richiedono una formazione delle maestranze più spinta per poter essere utilizzati perché interagiscono con l'ambiente esterno sono chimicamente più avanzati per cui molto probabilmente questi materiali moderni che sono sicuramente più performanti richiedono una capacità più elevata da parte dell'utilizzatore che se non viene applicata ovviamente degradano prima se un materiale deve essere messo in opera a una temperatura compresa fra 20 e 30 gradi e noi lo andiamo a mettere d'inverno molto probabilmente chiaramente quel materiale avrà delle necessità mantentive anticipate e così via per cui quello che ancora non si riesce a far comprendere alle imprese che le maestranze non possono essere raccattate in mezzo alla strada e poi utilizzate per delle finalità apparentemente semplici ma debbono essere appunto formate tutto questo grazie Claudio c'è qualcun altro che vuole porre qualche domanda o fare qualche riflessione grazie non c'è nessuno allora se a qualche minuto io volevo far vedere due documenti che sono parte integrante secondo me di queste tre prime giornate allora uno è una paginetta che non è altro che il diagramma di flusso di come si dovrebbe gestire una commessa 633 e l'altro invece è un esempio di piano delle indagini redatto dal professor Luigino Dezzi e dall'ingegner Sandro Balducci che per far vedere che non è che stiamo che queste cose si fanno realmente è una come vi ho detto è una questione anche culturale allora allora condividi vedete visualizzate la pagina si si vada si si vada bene allora qui ho cercato di diciamo maniera semplice di di sviluppare il flusso delle attività di gestione e certificazione di un laboratorio 633 allora iniziamo con la richiesta di formulazione di un preventivo per l'esecuzione di prove su strutture o costruzioni esistenti questa richiesta da chi può pervenire può pervenire naturalmente da un tecnico o da una committenza la richiesta dovrà essere corredata da un piano delle prove e indagini tipologia di prova localizzazione area di prova numero di prove redatto e firmato da un tecnico di fiducia del richiedente che può essere professionista direttore dei lavori o un collaudatore il richiedente e il tecnico possono anche coincidere esecuzione del sopralluogo perché logicamente per redigere un piano o un preventivo io devo conoscere la struttura quindi esecuzione del sopralluogo propedeutico la formulazione del preventivo e per l'acquisizione qui entra in gioco tutto quello che ci ha detto Marco Emanuele di tutte le informazioni per la redazione del documento per la valutazione dei rischi legati ai luoghi di lavoro il verbale di sopralluogo con l'eventuale allegata documentazione fotografica va firmato dal direttore del laboratorio o sperimentatore ed al richiedente o tecnico di fiducia del richiedente dopodiché il laboratorio cosa fa? formula un preventivo secondo un proprio tarifario se il preventivo può essere accettato il preventivo può essere accettato o non accettato da parte del richiedente se è accettato naturalmente si ottiene il ricevimento di una richiesta prove lettera di richiesta da parte del richiedente con allegato il piano delle prove o indagini quindi la tipologia di prova localizzazione le aree di prova il numero delle prove eccetera tutte le informazioni per poter permettere al laboratorio di operare questo deve essere redatto e firmato da un tecnico di fiducia del richiedente il richiedente e il tecnico naturalmente come ho detto prima possono coincidere naturalmente c'è l'accettazione della commessa da parte del laboratorio 7 e 3 con attribuzione di un numero progressivo di protocollo e di certificato o di certificati perché un protocollo può anche dare origine a un numero n di certificati nel registro giornaliero delle attività il registro giornaliero delle attività deve essere prenumerato e bollato da un organismo idoneo oppure da un notaio ordinato in base ad un numero progressivo di pratica cosiddetto accettazioni contenente gli estremi di tutti i passaggi relativi all'attività del laboratorio dalla richiesta di prova alla quietanza di pagamento delle attività svolte qui poi facciamo una piccola considerazione prego anche Giuseppe Daria di intervenire poi esecuzione delle prove con compilazione del foglio di rilevamento dati firmato dallo sperimentatore o dagli sperimentatori e dal richiedente o tecnico di sua fiducia e qui nasce la prima criticità che ha fatto emergere ieri Luigi Terranova tutte le attività degli sperimentatori vanno inserite nel registro giornaliero delle attività esso deve contenere informazioni inerenti data tipologia di prova nominativi degli sperimentatori presenti in cantiere redazione del certificato di prova secondo le indicazioni e di risultati riportati nel foglio rilevamento dati emissione del certificato di prova firmato dal direttore del laboratorio e dallo sperimentatore le firme possono anche essere apposte in formato digitale fatturazione della commessa consiglia del certificato di prova richiedente ricevimento della coitanza di pagamento chiusura della commessa e attivazione della pratica in formato cartaceo attenzione nell'archivio devono essere raccolti e conservati anche i fini dei successivi controlli da parte del servizio tecnico centrale per ciascuna attività di certificazione la lettera di richiesta firmata da richiedente aventi titolo il preventivo il foglio di rilevamento dati la copia del certificato la copia della fattura la documentazione d'archivio deve essere conservata per almeno 10 anni fatto salva diverse indicazioni un altro aspetto molto importante è la conservazione di eventuali campioni sottoposti a prova o prelievo è logico che se preleviamo una carota o una barra di armatura facciamo il certificato di prelievo e poi naturalmente quel prelievo viene consegnato a un laboratorio 76-17 per naturalmente l'esecuzione della prova diciamo di compressione o trazione se uno è già 633 o 76-17 internamente avviene il passaggio tra il sistema autorizzativo 633 e 76-17 altra cosa per esempio è il mantenimento dei tasselli estratte mediante la prova di estrazione oppure di eventuali campioni sui quali è stata eseguita la misura della carbonatazione questo deve essere contenuto nei locali del laboratorio per almeno 30 giorni dopo l'emissione dei certificati di prova in modo da consentirne la rintracciabilità e identificabilità allora un aspetto importante di questa cosa è che molti io prego Giuseppe Daria di aprire la telecamera e il microfono ti sei Giuseppe? abbiamo recentemente in pratica ci siamo incontrati con una ditta che vuole realizzare un software sulla 633 ma ha già realizzato software diciamo gestionale sono qui sono qui attiva pure la telecamera e hanno già realizzato un software per i laboratori di 76-17 76-18 naturalmente questo laboratorio ha non delle criticità è diverso è diverso perché non è un laboratorio che nel quale le lavorazioni come avete visto in queste tre giornate avviene in ambiente fisico cioè in ambiente chiuso non è un laboratorio quindi non ha una sede c'è una sede però le prove non le eseguo in laboratorio nella sede fisica ma le eseguo per ciascuna commessa in un in un cantiere diverso quindi la gestione anche per dire delle attività quindi il tracciamento delle attività qualcuno ha il microfono acceso è una cosa abbastanza complessa ma che si può fare tant'è che esistono già dei software che fanno anche ciò quindi questo è un esempio diciamo di come può avvenire il flusso vuoi dire qualcosa Giuseppe? ma niente da aggiungere nient'altro diciamo che il laboratorio 7.3 se posso permettermi a rubare un minuto a Marco a cui vi faccio i miei complimenti per la chiarezza della presentazione è comunque un nuovo concetto di laboratorio ieri è venuto fuori il tema della poca preparazione dei professionisti verso questa cosa e nell'intervento anche se non ricordo male di Giuseppe Di Iorio un nostro collega disse ma mica è un cubetto la prova ecco secondo me deve essere anche il nostro compito dei professionisti andare a fare un po' di come posso dire di cultura su questa su questa cosa ecco perché non siamo neanche arrivati ai cubetti ad essere così bravi a operare sui controlli di accettazione per cui le cose perfette non esistono ecco quello che mi va di dire è che anche i laboratori comunque i professionisti e questo corso anche ripeto ci permette di poter parlare ci permette di poter diciamo imprimere nella nostra professione un ottima un ottimo impatto ecco per aumentare il livello di cultura sia verso anche le pubbliche amministrazioni che come abbiamo visto anche in tema di sicurezza probabilmente sono attenti anche ad altre cose ecco quindi a questione di budget contratti eccetera quindi ecco tutti ci dobbiamo un po' allineare però secondo me la strada tracciata è molto è molto positiva ecco allora grazie Giuseppe se mi permettete condivido posso un documento posso fare una domanda io poi c'era anche Luigi Terranova comunque che aveva la mano alzata per quanto riguarda il pagamento diciamo delle delle prove ho visto che tu nell'elenco l'hai messo sotto la consegna del certificato ma diciamo che è contestuale oppure in un'ottica diciamo di prassi che sta adottando quindi quella di non pagare poi tutte le società che effetto allora con il pubblico è impensabile quel flusso finale è impensabile perché ti pagano a stati di avanzamento oppure ti pagano magari dopo due o tre anni se va bene nel privato provengo da una scuola tale che il certificato si rilascia contestualmente al pagamento perché poi molto spesso soprattutto nei contenziosi ci ha fregato una volta ci ha fregato due volte poi la terza volta il professor Mendito ha detto i certificati si rilasciano contestualmente al pagamento della prestazione perché naturalmente se qualcuno ti fa ti richiede dei certificati ti richiede delle prove soprattutto nei contenziosi e decide di pagare l'uno o l'altro se magari i risultati non sono come voleva una delle due parti e magari era proprio la parte che ti doveva pagare le prove incontenzioso che non finisce più quindi siccome come quando facciamo le analisi di banque quando andiamo a ritirare i referti li paghiamo col post logicamente stessa cosa deve avvenire nel mondo almeno nel mondo del privato almeno nel mondo del privato con i condomini eccetera cioè quasi contestualmente è la consiglia del certificato c'è qualcun altro? Sì se posso intervenire un attimo io volevo fare una precisazione e una domanda la precisazione è quella che se opero in amico 633 e vado in cantiere a prelevare delle carote delle basse e dire tutto teorica io alla fine del mio operato devo consegnare ai campioni al responsabile di indagini che poi questo decide di darlo a me in quanto io sono anche laboratorio utilizzato all'amico e 36 capita quasi 6 tu se agisci come 633 prelevi la carota e certifichi il prelievo e lo consegno al lo consegno al tuo committente se poi per dire la carota la vuole far scacciare alla alla sider all'LR ricerche o a un laboratorio che sta a 400 km sono fatti i suoi sono fatti i suoi se invece naturalmente la commessa è chiusa cioè nel senso che le richiedono anche a voi tu c'hai certificato di prelevo apri il protocollo per quello che riguarda la 76 e vai con la prova a compressione la domanda invece è questa la domanda riguarda le prove non distruttive o distruttive quelle che sono in ambito del PDR 56 applicate non alle costruzioni esistenti ma a quelle nuove un esempio costruzione nuova il collaboratore o la direzione della logica di lui mi chiede di fare le prove di carico questo tipo di prove prove di carico sui solai o sui pali quello che sia ma non parliamo di costruzioni esistenti di costruzioni nuove quindi in corso d'opera in corso d'opera scusate una precisazione la PDR 56 non è per sulle costruzioni esistenti è il canale di ingegneria la domanda era questa questo tipo di prove ricadono in ambito o no è certo ma guarda Luigi che secondo me ieri ti sei posto un problema che cioè se tu sei un 633 e per esempio hai vinto un bando come requisito un quanto 633 tu sei obbligato a certificare non è che c'è la volontà del richiedente no no ma il problema è costruzioni esistenti o costruzioni nuove cioè con l'anno in corso d'opera rientra nella cese o no allora su strutture su strutture vuol dire che magari non è ancora finita no su strutture o costruzioni esistenti quindi l'ambito è anche quello che si sta realizzando il titolo il titolo penso che sia stato costruito quando siamo andati all'incontro con il presidente Carlea lui ci disse mettiamo appositamente su strutture e costruzioni esistenti proprio perché gli diamo quella diciamo quella libertà di testare sia ciò che viene realizzato la struttura cioè un elemento strutturale eccetera che la costruzione esistente quindi naturalmente il titolo se posso permettermi recita proprio criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti le strutture sono le strutture quindi anche in corso di costruzione no la fondazione le strutture esistenti le costruzioni esistenti come aveva citato ieri Santo che ho visto che era collegato ecco quando finiamo appunto i getti no e facciamo la relazione a struttura ottimata quindi sicuramente ecco in ambito di costruzione ma sui materiali costruzioni su strutture in genere e costruzioni esistenti quindi tutto diciamo abbraccia tutto se posso dare la mia interpretazione questa è l'interpretazione che ci diede il presidente Carlea che era allora presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ho dato un incontro nel quale erano presenti i presidenti delle associazioni delle quattro associazioni di categoria e c'era anche Salvatore Mendito lui disse abbiamo aggiunto questo cioè abbiamo ritenuto opportuno perché la modifica dell'articolo 50 è venuta con un emendamento sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non è che è stato spinto dalle associazioni però non è che è stato fatto senza senza interpellare il ministero cioè quindi c'è stato un passaggio c'è stato un passaggio con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e quindi il titolo è stato diciamo concertato con loro e tra l'altro sulla futura disciplina delle costruzioni questo settore è chiamato sempre prove e controlli sui materiali della costruzione su strutture e costruzioni esistenti rimane invariato quindi secondo il ministero poi qui abbiamo anche dei rappresentanti è rimasto è rimasto così ok chiarissimo ok Luigi sì 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 se volete vi faccio vedere velocemente un piano delle indagini allora condividi questo è un piano delle indagini quindi piano di indagini redatto dal professor Luggino Dezzi dall'ingegno non so se su io non vedo no vediamo ancora Word Stefano nulla Stefano aspetta allora aspetta allora aspetta 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 Word salva ok Word non c'è più apriamo questo c'è lo schermo nero Stefano io vedo beh interrompi la condivisione e condividi di nuovo eh sì sì perché è andato in cioè a me mi dava condiviso allora adesso dovrebbe lo vedete no ancora no com'è possibile a me lo dà per condiviso interrompi condivisione se posso permettermi Stefano provare a uscire e rientrare provo a uscire e rientrare ok ciao Santo non ti sentiamo Santo speriamo non abbia bloccato la registrazione e quant'altro no no ancora la registrazione va perfetto ancora piove Santo da te da noi ha quasi nevicato ad Ancona eh sì mando la pubblicità? può essere un'idea questo spazio offerto da Marco quali sono gli sponsor di questo tuo intervento? Nike o Adidas? nessuno dei due qualche cementificio abbiamo 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 qualche signore siciliano che ci ha fornito ah la cimento un po' di spunti ah la cimento SRL e poi come stai? bene grazie sempre in clinica sempre in clinica che la paionetta ne è stata pronta all'assalto mai alla difesa è per forza è per forza comunque allora riproviamo riproviamo a condividere molto bene ok ora si vada ok allora questo è un provincia di Pesaro Urbino questo sono edificio amministrativi della provincia di Pesaro Urbino edificio particolare questo piano delle indagini quindi naturalmente tutte quelle che ho descritto prima sono state realizzate quindi è avvenuto il sopralluogo è stata fatta anche una una formulato il preventivo e naturalmente il piano delle indagini c'era stato consegnato dal professor Sandro Balducci prima di fare pure il sopralluogo vedete come ben questo 23 pagine di piano delle indagini no? cioè per farvi capire che non è una cosa quindi c'è una relazione tecnica con una premessa quindi indica quali sono le finalità delle indagini c'è anche una descrizione dell'edificio quindi descrive che si articola su sei livelli caratterizzati quindi dalla presenza di pareti curviline quindi è un edificio particolare c'è specifica anche come è realizzato quindi i telai la struttura di fondazione c'è una conoscenza guardate come è fatto questo edificio quindi questa è la struttura di fondazione questo questo è sono i due essetti che portano l'intero edificio qui ci sono anche dei pilastri in fallo rispetto alla travescatolare quindi c'è tutta una ricerca storica con l'acquisizione anche di disegni originari la documentazione di riferimento quindi tutto tutto ciò che che la la coppia che di valutatori quindi sia Dezzi che Paducci ha raccolto quindi elaborati strutturali del cemento armato elaborati strutturali architettonici i calcoli statici la relazione di calcolo delle strutture cioè ricordiamoci che noi il capitolo 8 deve essere un po' il nostro il percorso da seguire la conoscenza il rilievo storico il rilievo l'analisi storico critica il rilievo geometrico la conoscenza dei materiali quindi addirittura i disegni di contabilità dell'appaltatore la relazione geologica relazione della piano delle indagini eccetera allora era stata fatta noi siamo intervenuti come università dopo che qualcun altro aveva fatto delle indagini che avevano già allertato la provincia perché aveva dato dei risultati non incoraggianti le prove erano state eseguite dall'istituto giordano dai nostri amici dell'istituto giordano naturalmente volevano un'estensione il professor Dezzi ha ritenuto di chiamare l'università per vedere un attimo giusto se erano confermati questi questi queste prime risultanze e quindi i riferimenti normativi dopodiché dà indicazioni sull'obiettivo che la coppia di progettisti del piano vogliono arrivare quindi il livello di conoscenza facendo riferimento alla nota circolare l'obiettivo a cui si può arrivare LC3 quindi con quantitativo di prove esteso livello di indagine esteso e quindi qui tutti e poi vengono vengono citate tutte le tipologie di prove quindi l'investazione di carote la misura della carbonatazione il prelievo di barre e le prove non distruttive e vengono segnate quindi c'è esattamente l'indicazione di dove fare che cosa e vengono riportate nei disegni ok con la nomenclatura carotaggio eseguito barra prelevata carota su pilastro carota su trava barra da prelevare lievo armatura longitudinale staffe vedete e così per ogni piano e poi alla fine c'è anche una caratterizzazione dinamica allora ogni volta ce ne avevo anche altre ho interrotto la condivisione giusto no ancora no ancora no io l'ho interrotta però ancora c'è la condivisione la chiudo ok ora lo vediamo però continuiamo a vederlo ok io l'ho interrotta non so quale problema possa avere comunque e questa questa come tante altre quando avvengono sia stazioni appaltanti pubbliche o private personalmente faccio vedere guardate questo perché dicono come si fa un piano delle indagini io gli faccio gli edico il giusto tempo e gli faccio vedere cosa hanno fatto altri gli dico guardate per esempio questo 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 è un riferimento per una struttura in cemento armato questo è un riferimento per una struttura in muratura naturalmente la normativa la conoscete le tecniche le conoscete e cercate di di tirarlo giù e questo anche per le prove di carico cioè anche chi era 76 17 e faceva prove di carico generalmente è obbligo ricordiamocelo del collaudatore quando siamo in fase di collauro le redigere il la via di carico e di scarico non solo ma anche la disposizione del carico sul solaio e spetta invece al direttore dei lavori la situazione della prova cioè quindi l'organizzazione di cantiere per la realizzazione della prova è una cosa diciamo culturale cioè ci dobbiamo lavorare però non sono cose che sono cose che io quotidianamente trovo presenti è una cosa sulla quale bisogna che i laboratori anch'essi lavorano cioè nel senso che spingano professionisti a professionalizzarsi su questo settore perché abbiamo visto che sono competenze che non sono diciamo né banali né per forza acquisite da una laurea quindi sono questa è una specializzazione vera e propria c'è qualcuno che vuole intervenire io non so come eliminare ma io la condivisione l'ho levata